Io sono contento non tanto di 90 anni, ma di ciascun giorno di questi 90 anni man mano che ci penso. 90 anni non sono un blocco, sono una processione di passi e di esperienze e di emozioni e di gioie e di sofferenze. Ma tu ti mandato qualche cosa. Senza i singoli passi non ci sarebbero 90 anni, ma senza quei passi io non sarei io, ma sono contento di essere quello che sono. Un saluto che vuole rivolgere alle tante persone che l'hanno conosciuta e agli studenti, ex studenti del Barbarigo. Il saluto è un abbraccio virtuale perché siamo con questi sistemi, con la voglia di un abbraccio fisico quando le circostanze lo potranno permettere. E' certamente un meraviglioso abbraccio senza fine quando ci troveremo nel compimento che non è un traguardo, ma inizio di una nuova esperienza con l'amore più grande con cui abbiamo vissuto.